Terra Mara, anticipazioni della puntata di sabato, primo aprile, della durata di un'ora e mezza. Vedremo che Fekeli e Unkar hanno avuto la brillante idea di una cena a sei tutti insieme, che ovviamente finisce male. La puntata si apre proprio con Fekeli e Unkar che si incontrano al loro solito posto e lui le ricorda che è lì che quando erano giovani si incontravano. Lì sono stati derubati del loro amore e sempre lì si sono visti per l'ultima volta e che per entrambi è stato doloroso accettare il proprio destino. Poi le fa notare che la stessa cosa è successa ad Ilmas, che ha sofferto per amore ed ha provato a ribellarsi al suo destino, ma ora lo accetterà anche se soffrirà per sempre. Unkar gli chiede se lui è riuscito ad accettare il suo destino. Fekeli le risponde che sia lui che lei lo hanno accettato perché hanno messo la famiglia sopra ogni cosa, ma poi lui è rimasto solo. Ora però insieme possono liberarsi della loro solitudine. Fekeli tornato a casa dice a Ilmas e Mushgan che quella sera la famiglia Yaman sarà il loro ospite. Ilmas gli chiede se è impazzito, ma Mushgan interviene dicendo che lei è d'accordo perché è ora di mettere fine alla loro inimicizia. Ilmas chiede come possono pensare che Demir voglia mettere fine a questa lite e Fekeli gli risponde che lo pensa perché ora ci sono di mezzo tre bambini, di cui due devono ancora nascere. Ilmas gli chiede di non farlo, ma Mushgan gli dice che se ama il suo bambino deve far finire l'inimicizia con Demir, in modo che i loro figli possano crescere senza conoscere l'odio, che lei vuole crescere suo figlio insieme a lui e non vuole che rimanga orfano o che veda il padre in prigione. Demir e Zuleya sono pronti per andare alla cena che hanno organizzato Fekeli e Unkar e lui le chiede se vuole davvero andare con lui. Zuleya gli risponde che è sua moglie e che lo accompagnerà. Quando Demir, Zuleya e Unkar arrivano a casa di Fekeli, prima di entrare Unkar raccomanda a Demir di non parlare delle terre e di stare calmo. Lui la rassicura dicendole che glielo ha promesso. Quando entrano nella casa sono accolti da Fekeli, Mushgan, Ilmaz e Bege e tutti si stringono la mano sforzandosi di essere cortesi. Poi Mushgan si reca in cucina per ordinare i caffè e Zuleya la segue per avere un bicchiere d'acqua e saluta cordialmente Nazire. Mushgan le chiede come la conosce e Zuleya le dice che vivevano nello stesso villaggio quando lei lavorava lì con Ilmaz. Poi arriva la figlia di Nazire che la abbraccia contenta di rivederla. Tra le due famiglie c'è imbarazzo, allora Fekeli prende la parola dicendo che tra loro ci sono dei problemi ma adesso ci sono dei bambini innocenti ed hanno il diritto di vivere senza paura ed è per questo che lui e la signora Unkar hanno deciso di organizzare questo incontro. È ora che entrambe le famiglie si perdonino a vicenda e che ci sia la pace tra loro e i figli. Demir allora li rassicura che è lì per garantire un futuro sereno per i loro figli quindi si alza, va vicino a Ilmaz e gli porge la mano dicendo che lo fa con il cuore affinché l'inimicizia finisca. Ilmaz esita ma poi si alza e gli stringe la mano. A questo punto Demir gli chiede di dimostrargli che vuole veramente la pace restituendogli i terreni dei suoi antenati. Ilmaz allora lo accusa di essere lì solo per le terre e i toni si scaldano. Tutti si agitano e si alzano in piedi e Ilmaz fuori di sé comincia ad accusare Demir di averlo tradito più volte fin da quando gli aveva affidato la donna che amava. Perciò non solo non gli riderà le terre ma lui starà a Cukurova finché non avrà distrutto lui e la madre e che Cukurova sarà la tomba di uno dei due. A queste parole Demir impugna la pistola e spara un colpo che manda in frantumi la foto della famiglia di Fekeli. Quindi se ne va mentre si scambia minacce con Ilmaz. Ilmaz se la prende con il padre per aver organizzato quell'incontro e Demir a sua volta incolpa la madre. Ilmaz continua a urlare e inveire contro il padre accusandolo di non averlo ascoltato. Fekeli invece si inginocchia per raccogliere il porta foto distrutto e recupera la foto dei suoi cari. A questo punto Fekeli esasperato e addolorato gli urla di smetterla e se ne va con la foto tra le mani. Demir quando torna a casa è arrabbiatissimo e inveisce contro Ilmaz ma sia Zuleia che Unkar gli dicono che ha sbagliato a chiedere delle terre perché ha fatto credere che era lì solo per quello. Lui non accetta la critica e ribatte che le avrebbe pagate. Allora Zuleia prende il Corano e gli chiede di giurare su di esso che non userà più la pistola né contro Ilmaz né contro altri perché ha paura e non vuole che i suoi figli restino orfani. Demir le dice di non forzarlo a giurare perché deve difendersi. Allora Zuleia gli chiede di giurare che non tirerà fuori la pistola per primo ma lui dice che non giurerà allora Zuleia lo avverte che deve farlo se vuole avere una famiglia felice. Demir allora appoggia la mano sul Corano e giura e Zuleia gli stringe la mano sopra di essa. Contemporaneamente mentre Fekeli sta uscendo di casa viene raggiunto da Ilmaz che si lamenta ancora dell'invito fatto a Demir. Fekeli dopo averlo ascoltato gli dice che anche lui doveva restare calmo e seguire le tradizioni dell'ospitalità. Ilmaz allora gli chiede hai visto come si è comportato a casa mia? Fekeli esasperato gli risponde che quella è casa sua e di tutta la famiglia che lui gli ha mancato di rispetto e non gli ha permesso di parlare per affianare la situazione ma con il tempo lo perdonerà solo perché Demir ha sbagliato più di lui tirando fuori la pistola. Poi Fekeli ancora arrabbiatissimo se ne va e Mushgan raggiunge Ilmaz e lo prega di calmarsi per lei e per suo figlio. Ilmaz acconsente e la abbraccia. Bege si sfoga con Mushgan e le dice che è assurdo che tutto sia successo per delle terre e che Ilmaz non ha tutte le ragioni. Arriva Ilmaz che ha sentito tutto e le risponde duramente che lei non conosce la storia e che ha ragione lui e le lascia sole. Allora Bege fa notare alla nipote che la rabbia che mostra Ilmaz non può essere solo causata da delle terre ma sicuramente perché lui è ancora legato a Zuleia. Quindi le consiglia di divorziare prima che sia troppo tardi poi le consiglia di abortire perché Ilmaz non potrà essere un buon padre. Mushgan offesa le risponde che è suo marito e lo ama e la lascia sola. Unkar raggiunge Fekeli che la sta aspettando fuori dalla villa e si abbracciano. Lei piangendo si lamenta di quello che hanno combinato i due ragazzi. Fekeli le risponde che sono entrambi irascibili e si chiedono scusa a vicenda. Unkar gli chiede cosa potranno fare con quei ragazzi. Poi gli riferisce che Zuleia ha fatto giurare Demir sul Corano che non estrarrà la pistola per primo ed ora lei ha paura che Ilmaz lo possa uccidere. Fekeli le dice che non succederà perché quando Ilmaz prenderà in braccio suo figlio cambierà idea. Poi le dice di non essere triste perché lui ne soffre e vorrebbe sempre riuscire a farla sorridere. Mushgan raggiunge Ilmaz in camera e gli chiede se Zuleia è la causa del suo odio per Demir. Lui le risponde che la causa è ciò che fa Demir e di come se la cava sempre. Poi le chiede di credergli almeno lei dato che il padre non l'ha compreso ma Mushgan gli fa presente che il padre è solo arrabbiato. Ilmaz le dice che deve distruggere Demir ma che non può farlo se lei non sarà al suo fianco. Mushgan gli risponde che lo sarà a patto che non ci siano spargimenti di sangue perché non vuole che suo figlio rimanga orfano. Lui glielo promette e l'abbraccia. Bege è al telefono con una sua amica e le parla di Fekeli dicendole che è molto ricco e ha case e ville ed è anche un uomo giovane e piacente. Poi le confida che le piace molto. Poi quando Bege vede arrivare Ilmaz interrompe la comunicazione. Ilmaz chiede di Fekeli ma nessuno sa dove si è andato. Poi Bege chiede scusa a Nazire per averla insultata la sera precedente. Hatip cerca di instaurare un rapporto con Sanye lodandola per le sue capacità ma lei non si fa abbindolare dalle sue parole. Fekeli è inditta ma quando vede che sta arrivando Ilmaz se ne va senza parlargli. Ilmaz racconta a Cetin ciò che è successo alla cena e che distruggerà Demir senza ucciderlo. Mentre Cetin è a controllare i lavori della villetta di Ilmaz è raggiunto Dafa Dick che con la scusa di offrirgli del tè inizia a flirtare con lui che però rimane immune ai suoi apprezzamenti. In quel momento arriva Gulten mandata da Unkar perché vuole parlarle subito. Cetin ferma Gulten e le chiede di dirgli cosa le è successo perché qualunque cosa sia non cambierà i suoi sentimenti per lei ma Gulten gli risponde di non cercarla più. Gaffur è stato convocato da Hatip che gli dice che Sanye è più brava di lui nel lavoro e lo sta umiliando e lui dovrebbe reagire come farebbe un uomo. Poi Beffardo gli chiede se è stato licenziato come fattore per la questione dei polli. Gaffur gli dice che è arrabbiato con lui ma Hatip gli ribatte che era suo compito controllare se erano buoni o no prima di acquistarli. Poi gli fa notare che il suo stipendio è diminuito visto che ora fa il pastore e gli chiede come farà a pagare il suo debito visto che gli deve ancora 99.000 lire. Poi gli intima di portargli 5.000 lire entro due giorni o racconterà tutto a Unkar. Gaffur gli risponde che è impossibile per lui trovare quella cifra ma Hatip e gli suggerisce di ricorrere ad uno dei suoi soliti imbrogli. Unkar sta discutendo con Zuleya e l'accusa di aver fatto giurare Demir sul Corano per proteggere Ilmas che è impazzito quando l'ha vista a casa sua. Poi l'ha esorta a perdere la speranza con Ilmas e lasciare che lui e Mushgan siano felici adesso che aspettano un bambino. Bege e Fekeli sono a pranzo in un ristorante quando si avvicina una signora per salutarlo e lui le presenta Bege come la zia di Mushgan. Allora la signora la invita a casa sua. Rimasti soli Bege dice a Fekeli che è incredibile come lui sia rispettato da tutti. Zuleya e Mushgan si ritrovano inaspettatamente nella sala di attesa della loro ginecologa nello stesso momento. Zuleya è molto sulle sue e dopo qualche convenevole e scambio di battute arriva Ilmas e dice che è lì per assistere alla visita nella quale sentirà per la prima volta il battito del cuore del suo bambino. Mushgan e Ilmas entrano per la visita mentre Zuleya non reggendo alle lacrime decide di lasciare lo studio. Così si chiudono i riassunti della puntata di sabato iscrivetevi al canale mi raccomando e fateci sapere nei commenti se il nostro video vi è piaciuto. A presto con la puntata di domenica che ci riserverà tantissime altre emozioni.